Al nido vaccinati, un gesto importante, utile a tutti. Prende il via la campagna di informazione del Servizio Sanitario Regionale e della Regione Emilia-Romagna sulle vaccinazioni obbligatorie per i bambini da 0 a 3 anni, requisito richiesto per l'iscrizione ai servizi educativi e ricreativi per la prima infanzia pubblici e privati dell'Emilia-Romagna, dopo l'approvazione della legge regionale 19 del 2016, la prima in Italia, che introduce l'obbligo vaccinale a partire dal prossimo anno educativo 2017-2018 per antipolio, antidifterite, antitetanica e antiepatite B. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la percentuale di vaccinati che garantisce la migliore protezione a tutta la popolazione deve essere superiore al 95%, percentuale che in Emilia-Romagna è scesa dal 2014 sotto il livello di sicurezza. Nel 2016 la copertura al ventiquattresimo mese di vita per le quattro vaccinazioni obbligatorie si è fermata al 92,4%, tutte le ausle sono risultate al di sotto del 95%, Modena con il 92,5%, Bologna con il 92,3%, Imola è la più alta con il 94,5%. Dati ancora più in flessione per la USL unica della Romagna che, sempre nel 2016, ha fatto registrare una copertura pari al 90,9% rispetto al 91,1% dell'anno precedente. Sul sito www.alnidovaccinati.it viene spiegato tutto quello che occorre sapere sulla legge ed è illustrato il nuovo calendario vaccinale regionale in vigore dal 1 gennaio 2017. Online si risponde al quesito perché vaccinare e lo si fa ricordando come le vaccinazioni siano tra gli strumenti più efficaci a difesa della salute. Hanno consentito di debellare malattie gravissime come il vaiolo e di ridurre la diffusione di patologie come l'apertosso e il morbillo. Malattie molto comuni fino a non molti anni fa nell'infanzia, gravate da complicanze a volte gravissime e che, negli ultimi anni, parallelamente al calo delle coperture vaccinali, stanno di nuovo aumentando.